Ma Rossica vuole condividere l'orgoglio per la partita a scacchi con personaggi viventi e lo fa accogliendo le delegazioni delle quattro città gemellate, Tendo in Giappone, São Bernardo do Campo in Brasile, la città francese Montigny-Le Bretonné e, dalla Campania, l'italiana Mignano-Montelungo della provincia di Caserta. Sono Tori, Deo. Questo motivo di giberaggio è partita a scacchi e ciliegie. Ma magari questo giberaggio è unico nel mondo con questo motivo, quindi magari cittadini di Marossica, ma anche, spero che arrivino da tutto il mondo. Abbiamo cominciato con degli scambi scolastici, la prima, la più esperienza è stata questa, scambi scolastici tra francesi e italiani. Il mio molto obrigado a Marossica. E' un onore non solo essere qui come rappresentante, ma essere qui anche come partecipante alla parità scacchi, che lega le due città dal gemellaggio del 1986-1987. Dal mio cuore un grazie alla città di Marossica. E con le città gemellate l'arte è sicuramente un mezzo per superare le distanze fisiche e le differenze linguistiche, perché permette di esprimere un linguaggio universale. E così Marossica si prepara una versione della partita a scacchi, ancora più suggestiva e passo con i tempi, ma senza lasciare in ombra la tradizione, e ha già fatto registrare il tutto esaurito per le tre giornate di spettacolo.